È già al lavoro per arrivare al meglio alla prossima stagione e dopo le ormai consuete vacanze sarde ha dato avvio alla sua autonoma preparazione atletica che conferma la certosina cura prestata al proprio fisico. Alessandro Castellana ha solo 21 anni ma la sua chance nel calcio professionistico è fermamente convinto a sfruttarla al meglio. Nuoto, corsa e una dieta ferrea anche durante il periodo che tanti suoi colleghi dedicano alla dolce vita, vietato sgarrare per il difensore piacentino ad un passo dall'approdo al piacenza calcio. Ma credo che la cura dell'alimentazione e tutto quello che ne consegue sia importante perché noi lavoriamo con il nostro corpo e quindi bisogna cercare sempre di tenerlo al 100%. Come detto paiono essere molto vicini ad incrociarsi le strade del club dei fratelli gatti e quella del terzino che dopo l'ottima stagione del proprio acenza è stato messo sotto contratto dalla reggiana prima del passaggio al Sant'Arcangelo dove è riuscito ad ottenere una nuova salvezza miracolo. Nonostante il poco spazio avuto in maglia granata le parole che Castellana utilizza per descrivere la sua breve esperienza alla reggia appaiono quelle di un titolare inamovibile. I presupposti hanno di giocare, poi il mister ha deciso di non farlo, per questo ho sempre pensato che rimane un grande allenatore perché mi ha fatto imparare tanto. Parliamo di Colombo? Sì, sì, di Colombo. Tante volte magari quando uno non gioca attacca il miss e si chiara degli alibi. Io posso dire di essere andato in una squadra forte. Cura del fisico, applicazione e carattere da combattente. Peculiarità che faranno parecchio comodo al piaccio del futuro ma che non sono le sole a caratterizzare Alessandro Castellana che conosceremo ancora più a fondo lunedì prossimo alle 21 nel corso della nuova puntata di Zona Calcio.